5 cose da sapere per la salute della prostata. Ciao amici, sapevate che le cattive abitudini alimentari e la sedentarietà influiscono negativamente sulla salute della prostata? Squaletto dice che lui ha la prostata d'acciaio come le sue pinne. Ah sì? Qui non è questione di acciaio, pietra o ferro. La prostata è un organo delicato di cui ogni uomo già over 35 dovrebbe occuparsi. Obbligatorio superati i 50 come dice l'OMS nelle sue linee guida per la salute maschile. Anche l'attore Ben Stiller si è salvato dal tumore alla prostata grazie alla prevenzione, ne ho parlato in questo video. Io come naturopata vi posso aiutare raccontandovi le migliori strategie naturali per fare prevenzione, però ognuno deve metterci l'impegno e la buona volontà di seguire abitudini sane che proteggono la prostata. E per sapere cosa fare, senza avere dubbi, oggi ho preparato per voi 5 cose da sapere per prevenire il tumore alla prostata. Se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine del video, c'è un regalino per voi. 1. I nemici del benessere della prostata. Ci sono alcuni cibi che aumentano il rischio di ipertrofia prostatica benigna. Sono soprattutto i cibi grassi, a base di grassi saturi e grassi industriali, come quelli idrogenati e trans. Occhio quindi a fritti, formaggi, salumi, carni grasse e alimenti industriali. 2. Cibi e bevande da evitare. L'alcol. L'alcol è il primo nemico del benessere della prostata. In particolare birra e superalcolici hanno un effetto infiammatorio. Bisognerebbe quindi astenersi dalle bevute smodate e dagli eccessi. Squaletto dice che senza il suo drink perde tutto il fascino virile. Il vino rosso gli piace? Un bicchiere di vino rosso al giorno apporta antiossidanti come il resveratrolo, che protegge dalla proliferazione tumorale. Ho spiegato tutto in questo video. 3. Alimenti da preferire. Tra i cibi più adatti alla salute della prostata ci sono soia, verdura ricca di betacarotene come zucca, carote, peperoni, frutta come albicocca e meloni, cibi ricchi di vitamina C come broccoli, arance e kiwi, cibi ricchi di omega 3 e grassi insaturi come il pesce e la frutta secca, in particolare i semi di zucca di cui ho parlato in questo video. 4. Alimenti da evitare. Sconsigliati tutti gli alimenti infiammatori, dolci industriali, cioccolato al latte, zucchero bianco, bibite zuccherate, cereali raffinati. 5. Il tumore alla prostata è il più diffuso tra gli uomini. Sapevate che il cancro della prostata rappresenta il 20% dei tumori che colpiscono gli uomini? Nel 2017 si sono contati quasi 35.000 nuovi casi solo nel nostro paese. Fortunatamente i tassi di sopravvivenza sono tra i più alti in assoluto, circa il 91%. Ma la prevenzione resta essenziale. Con l'avanzare dell'età il rischio di contrarlo aumenta specialmente negli over 50. Attenzione anche se qualcuno nella vostra famiglia ha avuto problemi di prostata perché il rischio raddoppia. Per vedere altri video e consigli sulla prostata potete guardare questa playlist oppure acquistare il mio ebook Prostata sana naturalmente dove ho raccolto i migliori consigli naturali confermati dalla scienza. Bene amici, oggi abbiamo visto tanti consigli utili alla salute della prostata. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, la checklist dei consigli per una prostata sana, sempre il link è qui sotto in descrizione. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali. Grazie a tutti.